la vita è un parcoscenico camisci mai e noi siamo i personaggi in cerca d'autore ma quale autore potrebbe mai scritturarci il cielo della lampada di aladino ad esempio potrebbe trasformarmi in una tentatrice oppure nella fata turchina o una principessa voluttuosa questo è il gioco delle parti ognuno è uno nessuno centomila così è se vi pare ad mai ora aricato